intitolerò così questo video cioè dobbiamo vergognarci di esultare nel campionato del festival della mediocrità, cioè c'è poco da fare c'è poco a fare perché una volta, bene o male, comunque la Juventus era la squadra più forte comunque aveva, quella Juventus era sicuramente più forte di quest'Inter qua bene o male, anche se le altre comunque era un campionato mediocre, poi si vedevano le figure di merda in Europa, quindi c'è poco a fare però veramente una squadra che non tenta di vincerla e la vince cioè è una roba che per carità, adesso sarete tutti contenti esultate su sto cazzo perché poi alla fine anche avessimo, io l'ho detto ieri, anche avessimo perso oggi tra l'altro sono di fatto contento più che altro per un mio amico perché gli ho detto di giocare sulla partita di oggi, X2 più over 2.5 perché io gli ho pronosticato un 2-2 sinceramente siamo andati vicini però vabbè comunque almeno lui ha vinto qualcosa comunque di questo ragazzi io sinceramente cioè è una squadra è una squadra veramente senza purtroppo purtroppo fino a che qua si esalterà uno come Allegri che è il terzo andato più vincita storia anche perché è il terzo andato più che ha fatto più partite più stagioni nella Juventus dopo non me ne frega un cazzo non me ne frega io voglio la qualità la qualità nella mia squadra perché se voi vanno vanno bene questi giocatori poi non potete dire eh ma Allegri cosa si può pretendere da Allegri una squadra mediocre perché io oggi ho visto cambi di gioco dal Sassuolo che da parte nostra non li vediamo mai e il Sassuolo perde perde perché semplicemente è inferiore a noi punto fine punto fine e perde su due cazzate del proprio portiere come è stata la cazzata di Cesny fine sul tiro di bala si può dire vabbè era forte ma il gol è preso da su Ken che ha fatto è entrato di merda Ken un altro giocatore no perché poi vedo già commenti contro Morata che per carità ripeto uno può impegnarsi quanto cazzo vuole ma se terminamente poi sbagli tanto non mi frea un cazzo ok come era Manzio che si impegnava si sbatteva o quant'altro poi terminamente sbagliava tutte le ripartenze come era che dira e io sono così ragazzi prendolo a lasciare non mi frea un cazzo dell'opinione pubblica di merda questo è è Morata oggi rispetto alle ultime partite mi era anche piaciuto cioè non mi era dispiaciuto ecco cioè non significa che gli do 6 e mezzo 7 5 e mezzo barra 6 per me ce lo meritava ce lo meritava ok perché ha ricoperato la palla sull'uno a uno lì eh ma è fallo sto cazzo perché in Europa qui i falli non li fischiano mai quindi se poi volete sti falli qua non lamentatevi che poi in Europa non ci fischia quello non ci fischia l'altro perché meritiamo questo perché meritiamo questo non è un discorso di regolamento diverso no è l'interpretazione che è diversa perché il regolamento del gioco del calcio è quello è quello punto non è che cambia può cambiare qualche dettaglio ma sui contrasti è sempre l'interpretazione dell'arbitro che va poi a incidere perché la negligenza la vigoria sproporzionata faccio un esempio e queste cose qua no l'imprudenza sono in tutto il mondo del calcio internazionale poi uno interpreta cos'è vigoria sproporzionata cos'è imprudenza cos'è negligenza capite è sempre a interpretazione dell'arbitro e qui hanno una mentalità di merda come l'hanno molti allenatori italiani anche gli arbitri cioè diciamo di fischiare ogni minimo contatto e quant'altro poi trovi un arbitro che non li fischia e ci si lamenta come gli allenatori italiani qua si allenano a coverciano con la mentalità del difensivismo catenato a parte qualcuno quel qualcuno è quello il problema quel qualcuno che cerca di dare un'impronta propria di gioco del calcio diciamo diversa dagli altri allenatori italiani improntati sul catenaccio contropiede viene visto come un non lo so cosa un mostro no per questo si screditano l'italiano di turno Babi Gasperini a me non piace Dionisi De Zerbi che poi ripeto sono allenatori che per me non sono da grande squadra perché comunque quando c'è quel cambio difensivo da fare l'italianità entra anche nel loro DNA però si screditano questi allenatori qua perché si ha paura che l'Italia vada in quella direzione perché no non dobbiamo prendere spunto dagli altri no rimaniamo nella merda nella mentalità di merda che avete del fisico del muscolo della corsa della resistenza resistenza mica tanto qualità zero qualità zero perché oggi prima della partita Bonucci ha detto dobbiamo avere una contro Sassuolo possiamo vincere la partita se avremo una riaggressione senza palla immediata l'avete vista la riaggressione dopo appena persa palla io no io no abbiamo giocato col classico schifoso 4-4-2-4-5-1 ibrido ancora abbiamo spostato a sinistra ma tant'è che Damiano quando abbiamo messo le formazioni oggi col 4-3-2-1 con Dibale e Bernadeschi ho detto con ho detto sì Bernadeschi a destra farà al posto di quadrado e l'abbio al centro campo a sinistra con Dibale è morata davanti questo è andato di fatto Dibale fino al gol penoso prima e dopo il gol penoso Dibale penoso perché chi è l'allenatore di merda che lo mette in campo con questo atteggiamento che ha di astio di continua che sembra veramente non voler giocare poi fa un gol di cattiveria e cos'è che fa esulta sempre in maniera polemica una società veramente seria e questa purtroppo è una cosa che va detta da Riva Bene che l'abbiamo elogiato per alcune cose lo prendi e lo lasci in tribuna fino alla fine della stagione tanto i soldi comunque glieli dai fino a giugno perché qualcuno dice ma potrebbe essere che ci stanno ripensando un cazzo perché se questo è l'atteggiamento per far ripensare la società del rinnovare il contratto ragazzi Dibale ha sbagliato tutto e non bastano i gol i gol non vanno una prestazione cioè sui giocatori bisogna e sui giocatori bisogna basarsi non solo sul risultato sul gol ma soprattutto sulle prestazioni perché se uno mi fa un gol così ma ha fatto una prestazione di merda svogliato soprattutto l'ho giudicato anche soprattutto per quello perché un gol sei attaccante cazzo nella Juventus prima o poi ti capiterà un'occasione per fare gol ci mancherebbe anche altro poi adesso hai visto l'aspadone altro giocatore frattesi frattesi mi dicono tanto frattesi eh bravo inserirsi però se noi guardiamo dati alla mano per il modo che ha di inserirsi ha pochi gol ha pochi gol anche oggi bravo inserirsi mi ricordo un po' sotto quell'aspetto alcuni giocatori che adesso non menzionano perché poi mi dicono che dico eresie grandi giocatori che bravi inserirsi ma poi concretezza zero frattesi così Raspadori altro tiro al giro mi sembra un Dibala 2.0 quello quindi anche no beh solo che magari Raspadori ha anche il mancino rispetto a Dibala che se non sbaglio Raspadori è destro quindi gioca con tutti i due piedi Dibala no ragazzi la partita di oggi non è come commentabile non è assolutamente commentabile basta fine c'è non so il cazzo di commentare sta partita di merda ah ma abbiamo una squadra piena di infortuni chi è sempre l'allenatore di merda che non cambierà cioè cambierà probabilmente lo staff medico ma non cambierà i suoi fedelissimi quindi non cambierà i preparatori atletici quindi non cambierà Pertusio Folletti a meno che sappia anche lui cioè a meno che non sappia anche lui che praticamente il problema non è solo il preparatore ma anche il lavoro che fa fare ai giocatori lui perché comunque è un attore che mette giù le cose da fare insieme ai preparatori perché tutti questi infortuni tutti questi problemi al di là dei traumi di chi sono colpa ma anche dei legamenti ci metto in mezzo pure i legamenti perché i legamenti come i muscoli vengono sollecitati punto poi sulla papra di Shesney in piccola parentesi quando dico che una quando tu vieni sollecitato tanto aveva fatto due o tre belle parate prima Shesney aveva fatto quella cagata lì perché quando vieni sollecitato tanto è normale che prima o poi l'errore individuale possa capitare punto fine viene esaltato anche De Sciglio porca puttana dove cazzo vogliamo andare ma dove stracazzo vogliamo dove cazzo vogliamo andare e non dico a livello nazionale a livello internazionale perché se questa è la vostra mentalità di merda solo lo scudettino puoi vincere ma non siete stufati il che non significa che bisogna sminuire lo scudetto lo scudetto va vinto ok ma non deve essere più il primo obiettivo non deve essere più la nostra ossessione lo scudetto eh ma la Champions ma ci sono vari fattori eh ma le altre società spendono più soldi e bla 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 e quindi se tu vinci lo scudetto sei la società che fattura di più non dovresti neanche esultare perché è il minimo vince lo scudetto no? basta chiudo così perché la partita di oggi veramente c'è un cazzo da dire non riescono a fare due tre passaggi di fila non riescono a fare una regressione senza palla sempre una squadra passiva è questa questo è una notte qua anche se avesse Klos Modic Casimiro o comunque avesse Liverpool ad esempio di Klopp secondo voi con Allegri farebbero il gioco che fanno quelli con Klopp o quelli di Guardiola farebbero il gioco che fa fare Guardiola loro quando si dice eh ma non hai giocatori ma secondo voi e se poi si dice sempre non hai giocatori per fare il gioco palla bassa e quant'altro e se hai l'allenatore che poi ti chiede Savic e non ti chiede altri tipi di giocatori che invece che farti sempre sanno duettare sanno dialogare uno o due triangolazioni veloci sanno pensare velocemente e quant'altro forse il problema non è solo la società che è un grande problema non sono solo i giocatori che sono un gran problema ma è anche la mentalità del cazzo che ha sto allenatore qua ma io sono sicuro che con un'altra squadra più forte vedresti qualcosa di meglio perché tecnicamente è come la Juve di Berlino no siamo arrivati perché qualitativamente comunque era valida quella squadra lì nulla a togliere Allegri che ha sistemato i dettagli bravissimo rispetto a Conte però andava perché comunque terminamente non è che dominavi il gioco come fanno Liverpool City Bayern Monaco Barcellona no tu eri bravo eri più bravo a ripartire basta perché molti gol anche in Champions li abbiamo fatti in ripartenza quell'anno perché eravamo più bravi più veloci più tecnici così Allegri giocherebbe avesse giocatori di qualità non di dominio non farebbe un calcio di dominio di sovrapposizioni di movimenti senza palla perché non è in grado di fare il gioco del calcio perché non è gioco bello gioco proprio no è il gioco del calcio punto buona notte a tutti fino alla fine sempre e comunque Forza Juventus